What's up boys! Benvenuti in un nuovissimo, fottudissimo video! E oggi abbiamo Leprechaun 6! Ritorno nel fottudissimo ghetto, da non confondere col quinto che è In The Hood. Si vede l'ambientazione del ghetto è piaciuta già dal quinto film della saga e l'hanno ripresa a distanza di un po' di anni. Quindi si vede che è un film più recente, proprio dalle riprese, dagli effetti speciali, belli, o almeno minimamente necessari per il film. Più che altro per il make-up ci sono andati belli tosti, perché c'è un Leprechaun figo con un nuovo outfit, nuovamente in mezzo alla strizza per farsi rispettare e per prendere possesso di tutto. L'inizio non ci è molto chiaro, perché non riprende proprio le situazioni del precedente film. Anzi, inizia proprio con Leprechaun che muore e poi a distanza di anni ritornerà in vita alla conquista del quartiere. E rispetto al film precedente fa veramente il culo pazzesco la gente. Si conferma nuovamente come un film horror, commedia di azione, gangster, con alcuni rapper che hanno ruoli secondari per attirare sempre un po' l'attenzione. Ma non è tutto ciò che caratterizza questo film. È tenuto in vita da un ritmo bello potente. Il Leprechaun contro poliziotti, contro gruppi di veri gangster, cosa che non hanno sfruttato del tutto nel primo film, nel precedente film. Il Leprechaun che fuma erba a diritto, ma che caso! Bellissimo, c'è proprio scene divertenti. Scusate proprio dal fatto che è un comedy horror e lo caratterizzano. Ma poi ragazzi, in questo film, veramente, tanto anche in altri film di Leprechaun, ma in questo film sembra che non si possa ucciderlo, non vuole morire! È un personaggio con i controcazzi! Cioè nulla lo fermo adesso, nulla! Veramente nulla e nessuno! Anche perché i protagonisti sono veramente cazzuti, eh! C'è quello parecchio, no, del ghetto. C'è quell'altro che... Sì, anche lui del ghetto, però un pochino più il drogatello. C'è la tipa che è la tipa seria, l'amica un po' più pazza, tantissimi personaggi secondari, tantissime luoghe e situazioni in cui il Leprechaun si trova e dove i nostri protagonisti si ritrovano a fronteggiarlo. C'è anche una maga che cercherà di aiutare un po' i nostri protagonisti. Insomma, sembra un cercare di mandare avanti la saga, ma in realtà c'ha anche lui delle trovate in Avellina. Cioè non è che se prima vedi l'Eprechaun in Las Vegas, poi lo vedi direttamente nello spazio e poi nel ghetto dicendo esaurito le idee. No, perché poi ti ritorna nel ghetto ed è un film bello, magari a distanza di anni, però c'è un bel Leprechaun, un bel film. O almeno che rispetta un buon posto nella saga. Quindi it's good, mi piace, fatemi sapere se anche a voi è piaciuto se l'avete visto o se non l'avete visto, magari mi scrivete qua sotto cosa ne pensate, perché questo era tutto ciò che pensavo io di questo film. E nulla toglie di dirmi cosa ne pensate voi, qua sotto. Quindi noi ci becchiamo a un prossimo fottutissimo video. Dammit, bro! E il kill count di questo film ammonta a circa 10 persone. Massimo, massimo 11. Perché è un po' incerto su una. Quindi, alla prossima, boy!